Frutta e verdura sono essenziali per il nostro benessere e le sostanze protettive che contengono caratterizzano spesso i loro colori vivaci. Il gruppo giallo-arancio contiene beta-carotene, che protegge le cellule dai danni provocati dai radicali liberi. Il rosso è ricco di vitamina C, che contribuisce al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario. Il verde contiene magnesio e acido folico, indicati per gli sportivi, bambini e le donne incinte. Il bianco fornisce fibra, preziosa per l'intestino, e potassio, che aiuta a mantenere una normale pressione sanguigna. Il blu-viola, anche lui ricco di vitamina C, svolge un'efficace azione antiossidante e contribuisce alla riduzione della stanchezza. Segui la linea dei 5 colori. Consuma ogni giorno almeno 5 porzioni di frutta e verdura, ciascuna di colore differente. Scusate, stavate girando?